Il tizio si è beccato una scarica di 5.000 volte, è morto, professore. Luca, presto tornerò a distruggere te e la tua famiglia. No, è un incubo. Pensavo di essere morto. Sei proprio stupido, vieni. No! Sono tornato come vivi. Luca! Stavattina mi è capitato un fatto curioso. Sono venuto a farti un regalo. Non ci provare mai più! E questo è solamente l'inizio.